Sai che nel mondo due storie simili possono avere finali diversi? Se in Italia, dopo un evento climatico estremo, come le sempre più frequenti alluvioni, lo Stato aiuta i suoi cittadini, nei paesi del sud del mondo non è sempre così. Qui le persone spesso perdono tutto quello che hanno e sono costrette ad abbandonare la propria casa. Ecco perché è necessario adottare misure urgenti per contrastare le disuguaglianze, assicurandosi che tutti abbiano gli stessi diritti e uguali opportunità. Grazie a tutti.